Ma voi chi siete? Ciao, sono il salutatore, tu sei una grande, sei pronta per questa avventura di Ballando con le Sede? Assolutamente no, nella maniera più assoluta, e farò una bruttissima figura, però capace dell'ospettacolo che conosco, quindi mi vedrete fare una brutta figura. Ma tu hai una grande grinta, perciò sono sicuro che non sarà così, hai un maestro molto forte, perciò diciamo che ne aspettiamo delle belle. Vogliamo fare un saludo a tutti i tuoi pazzi che ti seguono innumerevoli sul web? Ai miei innumerevoli fans un grandissimo bacio e votatemi per favore, ma mica perché voglio vincere, ma perché siccome dobbiamo fare due balletti e il secondo non lo so fare, allora non devo arrivare ultima assolutamente, perché sennò faccio una brutta figura, per cui per favore votatemi, votatemi, votatemi. Ecco, io ti ringrazio. Non perché voglio vincere, non voglio vincere. No, non voglio vincere, però se vince, diciamo. No, voglio superare la prima serata, fatemela superare di buon buon. E io ti dico che la supererai e ti dirò di più. Ho una sorpresa per te, perché te la meriti, la manina del salutatore. Io l'altro anno diedi due manine e uno vince. Gli auguro, grazie. Ma si deve fare col verde o col rosso? Quello che vuoi tu, quella è la scelta. E quest'anno ne ho state quattro e una a te, chissà se uno vince. Grazie, grazie. Grazie a te. Grazie, me la conferverò. Ciao, grande Giuliano, ciao.